La scrittura e lo strumento per realizzarla, l'alfabeto, furono acquisite in Etruria alla fine dell'VIII secolo a.C. grazie ai contatti con i greci di Eubea, che per primi riaprirono le rotte marittime verso l'Occidente, già battute dai Micenei nell'Età del Bronzo. Proprio gli Eubei avevano fondato in campagna le più antiche colonie greche d'Occidente, Ischia, cioè l'antica Pitecusai, e Cuma, in stretto contatto commerciale con gli etruschi. I greci ebbero quindi un ruolo fondamentale nel trasmettere questo innovativo metodo di comunicazione nella penisola non solo agli etruschi, ma anche ai latini tramite intermediazione etrusca e alle popolazioni dell'Italia meridionale. Gli etruschi, a loro volta, trasmisero la pratica scrittoria ad altri popoli che abitavano la penisola, fino ai Veneti, reti e celti oltre il Po e lungo l'arco alpino. La formazione delle città e di società più strutturate già nell'VIII secolo a.C. favorì l'accoglimento da parte degli etruschi di questa innovazione. I testi più antichi, in numero di poche centinaia, si datano al periodo comunemente noto come orientalizzante, compreso tra la fine dell'VIII e gli inizi del VI secolo a.C. In questo periodo la conoscenza della scrittura era appannaggio dei ceti dominanti. Di questa fase così antica della scrittura rimangono infatti per lo più formule tracciate su oggetti che ne dichiarano la proprietà da parte di un individuo, oppure che esplicitano il rituale del dono all'interno di cerchie aristocratiche.